ben ritrovati di nuovo su review è arrivato il freddo e ho acquistato quindi questo prodotto non solo per il freddo ma anche perché avevo dei dolorini alla cervicale è un cuscino termico le dimensioni sono 60 per 20 800 grammi di peso ed è un cuscino che presenta all'interno dei noccioli di ciliegio si va a mettere nel microonde e si può quindi riscaldare o anche nel forno e si può quindi riscaldare dopo pochi minuti lo tengo all'incirca 2 minuti e 30 al massimo della temperatura poi dipende ovviamente dal vostro microonde e vi consente di avere un calore su tutta questa parte del cuscino come vedete anche suddiviso in compartimenti e una volta messo sulla zona del collo anche sull'addome magari pensando anche le donne che hanno il ciclo o comunque dietro la schiena permette veramente di alleviare di dare alleviare i dolori di dare quella sensazione di tepore che sia anche quando si fa una doccia un bagno caldo funziona davvero l'ho provato come vedete all'interno c'è il cuscino vero e proprio sentite il rumore e questa qua è la federa diciamo che il prezzo vi lascio il link in descrizione innanzitutto del prodotto il prezzo varia a dipendenza della federa quindi questa è una texture con le stelline mi piaceva molto l'ho pagata 16 euro mentre ce ne sono altri texture che possono anche variare di qualche euro come vedete si può lavare la federa ma la parte dentro no anche perché ci sono i noccioli e 100% cotone questa parte si può lavare tranquillamente e c'è scritto a 30 gradi si può anche stirare quindi c'è chi dice che ha un po un odore particolare ma in realtà a parte all'inizio poi è veramente un odore che non dà fastidio e vi faccio vedere magari al volo giusto i vari le varie colorazioni della federa questo è quello che ho preso io e qua ce ne sono altri davvero carini ovviamente il prezzo poi varia bene per questa recensione tutto il link in descrizione se avete qualsiasi domanda non esitate a scrivermi alla prossima review